E' impossibile che Alina abbia scritto questo, è senz'altro una trappola, un'infame macchinazione per allontanarmi da te, è tutto falso Miguel te lo giuro, si tratta di una menzogna, Alina non può certo dire questo perché sa benissimo che... Questa volta ne sono sicuro, Alina mi ha confermato ciò che c'è scritto su questo No non è vero no, chiediglielo se vuoi, è stata la stessa Alina a scrivere quel biglietto E chi le ha insegnato a scrivere? Lei non era certo capace Sofia, su richiesta di Alina Quella strega, Sofia ti ama e fa di tutto per allontanarti da me, quella donna è una vipera Non ti permetto di insultarla, se qui c'è una vipera quella sei tu, Sofia è una santa invece Miguel ma tu sei pazzo Ha esitato prima di dirmi la verità E se lo ha fatto è perché l'ho accusata di aver dato quelle false informazioni Che hanno condannato Grillo a ritornare in orfanotrofio Invece sei stata tu Maria Fernanda Per colpa tua lo rimanderanno là Io? Ma come fai ad essere così cieco Miguel? Non sei stata tu ad interpellare il tribunale, il problema è in quale modo tu l'abbia fatto Avrai senz'altro raccontato dei nostri litigi e loro non ci hanno concesso l'adozione E poi per far sì che io non scoprissi la verità hai diffamato Pedro Una bella mossa davvero E così anche a Pedro è stata negata l'adozione di Grillo Grazie a tutti Grazie a tutti.